ciao a tutti sono rando 1987 motori e oggi faremo una grande magnifica super a boxing di due oggetti magnifici proprio bellissimi super utili per fare i vlog cioè video vlog in giro ovviamente sempre in giro per qualsiasi posto diciamo e ci vediamo nella boxing e allora oggi allora comunque raga oggi abbiamo un doppiatore di usb per l'area anzi lightning non usb scusate riesco a aprirlo se riuscirò a aprirlo perché è la prima volta che lo apro quindi lo apriamo oggi guardate che bello allora questo qua sarebbe un sdoppiatore se vedete che in pratica da lightning e fa da cuffia e soprattutto il caricabatterie che è importantissimo poi questa è la cosa utile è questo anzi ve lo faccio vedere così che meglio sarebbe quello in pratica il il supporto per mettere sul casco che infatti c'è scritto qui vediamolo cos'è andiamo a vedere subito cos'è andiamo aprirlo subito non voglio rompere la scatola perché devo tenerlo bene nella scatola vediamo cos'è vediamo è perché vediamo sono più emozionato di voi un unboxing la prima volta che non faccio più wow che bello e la che stupendo non solo ti danno questo ti danno anche un altro l'accetto un altro pezzo di di cosa per se si spaccano uno di questi ok se si rompe questo ce l'ho un altro per scorta e soprattutto la cosa più importante di tutti moto blogger certi da un altro cosino per la copro non ci credo bellissimo adesso si e va così tu metti la copro qua qui davanti così e qui si attacca al casco davanti e ci diamo nella chiusura del video perché così almeno ve le faccio vedere bene gli oggetti anzi vi farò vedere domani il video cioè come uscirà il video per vedere se funziona bene o non funziona queste cose qua e quindi ci vediamo lì alla chiusura del video ciao eccomi sono tornato vi farò vedere forse stasera uscirà il video di quella super magnifica unboxing degli oggetti più utili di ogni youtuber anzi di ogni magnifico youtuber rando 1987 motori e ma proprio una cosa che c'è quel che vi ho fatto vedere di qualsiasi cosa proprio è di una cosa utilissima che sono il supportino per per la super telecamera per la gopro io c'ho la hero 5 black ovviamente edition e soprattutto quel come si chiama il sdoppiatore della come si chiama della web anzi usb dico sempre usb del cavolo e la lightning ovviamente lightning serve più tutti iphone che purtroppo dal 7 in poi purtroppo hanno ovviamente tolto l'ingresso jack perché non si sa il motivo perché l'hanno tolto quel cavolo di ingresso jack comunque spero che vi sia piaciuta anzi se vi è piaciuto questo video che uscirà forse stasera e vero anzi vi metto sotto qui in descrizione il mio link del mio canale youtube che sarebbe random 1987 motori e io vorrei superare molti di più iscritti che avevo prima ovviamente adesso ne ho ben 130 iscritti vorrei superare molto di più di quelli che ho vedete via mio canale attivate la campanellina mettete tantissimi tantissimi piace e quelli mi piace li voglio altissimi soprattutto tanti commenti mettete anche voi tanti commenti su con hashtag super gopro anzi potete mettere quello che volete di hashtag potete mettere quello che volete spero che vi sia piaciuto ciao ci vediamo nei prossimi magnifici video ciao 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 ciao